bfast bj la 073 ovvero borse laterali da 50 litri 25 litri per lato quali sono le caratteristiche principali intanto è un prodotto universale quindi per qualsiasi tipo di moto prodotto morbido e quindi che si può modellare anche a seconda del contenuto impermeabile quindi completamente waterproof e con un look tecnico ma anche sportivo ma perché no anche un po adventure le dimensioni sono 55 per 46 cm materiali nei quali è realizzato nylon e pvc 500 di caratteristiche principali nel dettaglio intanto lo abbiamo detto prodotto 100 per cento vuote profili siamo tranquilli in ogni condizione climatica la chiusura avviene con la carica dall'alto senza l'utilizzo di cerniere anche in questo caso quindi è una caratteristica di massima tenuta all'acqua poi abbiamo due cinghie come potete vedere che ci permettono di tenere collegate le borse belle adese alla nostra moto possiamo regolarle a seconda del volume del nostro codino e poi guardiamo anche il dettaglio vedete abbiamo anche un blocco che ci permette di avere la fettuccia in avanzo ben bloccata in modo da evitare fastidiosi sventoli della cinghia poi due maniglie che ci permettono di trasportare il prodotto quando lo scolleghiamo dalla moto in maniera molto pratica e facile ma abbiamo anche degli accessori ovvero due pannelli che ci permettono di personalizzare la borsa e abbiamo anche all'interno di ciascun pannello una bella rete e delle cinghie 4 strap con il velcro più due cinghie di collegamento e due cinghie a scatto che ci permettono di regolare e vincolare bene le nostre borse al codino ai telaietti o anche agli agganci delle pedale del passaggio e per rendere semplici le fasi di montaggio vi ricordo che sul sito ma anche insieme a ciascuna copia di borse troviamo le istruzioni chiare e dettagliate grazie